Assistenza volontaria a rischio in occasione della visita di Papa Francesco a Bari. I comitati pugliesi di Ampas, Misericordie e Croce Rossa hanno infatti annunciato che non assicureranno la presenza di volontari nel corso dell'evento in programma domani 7 luglio. Alla base della protesta, come spiegato in una nota diffusa dalle tre associazioni, attacchi ingiustificate alle associazioni di volontariato dal mondo istituzionale. Potrebbero così mancare all'appello circa 400 volontari sui 600 che ad ora avevano dato propria disponibilità, due posti medici avanzati rispetto ai quattro previsti e 20 ambulanze in meno rispetto alle 31 previste. Allora, abbiamo preso questa decisione, anche se è una decisione sofferta, e dopo le ultime notizie, le ultime affermazioni che sono state fatte da qualche dirigente della regione, e anche da qualche politico, classificandoci come dei mafiosi oppure che nelle nostre associazioni si sono infiltrazioni mafiose. Quindi ecco per quale motivo noi volontari che non ci stiamo a questi giochi, a queste cose, quindi abbiamo deciso per domani di non garantire il servizio al Papa, che era un servizio che veniva offerto dai volontari per la collettività. Io rappresento le misericordie del regionale, quindi tra cui anche quella di Andri e di tante altre, come in altre organizzazioni. È chiaro che noi abbiamo preso questa decisione in un comitato congiunto, e quindi è una decisione sofferta ma che abbiamo dovuto prendere proprio per le ragioni in merito a questa insinuazione e le offese che sono state prodotte.